Buona seratina a tutti ragazzuoli, amici di Michelone, piccolo video dai, piccolo video serale, domenica sera, domenica sera, domani è lunedì, c'è chi andrà a lavorare e chi è in ferie come me. Allora ragazzuoli, prima di tutto bisogna fare i complimenti a Djokovic, perché io non parlo mai degli altri sport, perché parlo solo prettamente di Juventus in questo canale, ma un complimento a Djokovic glielo faccio perché secondo me è il tenista più forte della storia, in assoluto. C'è chi ha preferenze per Federer, tutti i grandi campioni, tutto quello che volete, ma io ho cominciato con McEnroe, negli anni che furono McEnroe per me era inarrivabile, poi sì c'è stato McEnroe ormai era vecchio, c'è stato Ivan Landl, Boris Becker, tutti quelli che volete fino ad arrivare ai giorni nostri, però questo Djokovic ragazzi è un rullo compressore, un rullo il migliore al mondo, il più forte, il più grande ragazzi, a me piace troppo quel tenista, piace troppo 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 troppo. Complimenti a Djokovic, Sinner, sarà per la prossima volta, Sinner. Poi altro complimento alla Juventus woman che ha rifilato 5 pipponi agli interisti, 5 pipponi grandi, speriamo che sia di auspicio, un buon presagio per la partita di domenica, brave ragazze, 5 pippi, anche quando giocano le ragazze, è godimento, è godimento, è godimento battere quelli là, battere quelli là, anche con le donne, anche con le donne, brave ragazze, brave, brave, brave. Secondo il campionato, dietro la Roma, la Roma ragazzi, sono un paio di anni che, parlo sempre di calcio femminile, la Roma veramente, l'unica partita che ha perso la Juventus è proprio contro la Roma, vincitrice del campionato dell'Altrano, che ha spezzato dopo 5-6 anni di fila che vinceva la Juventus. La Roma veramente, veramente, la Roma femminile è uno scalino sopra la Juventus in questo momento. Comunque complimenti alla Juventus femminile, battere quelli là è sempre orgoglio, è sempre orgoglio. E poi, come ultimo, Morata, ancora Morata. Che palle, che palle questo Morata. Morata, ancora Morata, sempre Morata. Quello vuole tornare la Juventus a tutti i costi, eh? Lui ancora Juventus a more mio, lui vuole tornare, adesso si parla di questa partenza già di Vlaovic a gennaio, a gennaio. Io non lo so se adesso, adesso ci avviciniamo dicembre, si incomincerà a parlare di calcio mercato, adesso incominceranno le fake, quello, quell'altro stato, però pare che in gennaio ci sia abbastanza movimento della Juventus perché devono puntellare a tutti i costi questo centrocampo, questo cerco dopo quei due ignoranti lì che hanno fatto le cappellate, che hanno fatto lì tra quel Pogba, che ancora lì non mi è chiara quella storia del polpo, non mi è chiara. Dopo lì, lì si parla di una pomata, ma dai dai. Io non dico più niente di questa, però a me non è chiara. La storia del polpo a me non è chiara. Quell'altro purtroppo è uno stupidino, è uno stupidino lì che va a scommettere, che va a scommettere. Ci mancano due al centrocampo, è inutile girarci intorno, ce ne mancano due. Ce l'hanno fatti fuori due, ce ne mancano due, quindi bisogna correre sul mercato. Io penso che la Juventus, che la Juventus, non penso che giunto lì a quell'altro, siano andati a Londra per niente, no? Vedremo, poi si parla anche questo insistentemente di De Paul. De Paul è un buon giocatore. E poi pare, 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 pare che sia molto avviata la trattativa con l'Udinese per quello che doveva prendere l'Inter, la Sazza, Marviz, la quella centrocampista. Insomma ci sono un pochi di nomi che girano. Ovviamente, ripeto, la Juventus due colpi deve farli, eh? Deve farli. E li farà, e li farà, perché così non possiamo andare avanti, ragazzi, dai, su, non possiamo andare avanti con Locatelli, Miretti e Rabbio e McKennie sulla destra. Non si può andare avanti così. Adesso poco, domenica, mi viene male giocare contro quelli là, senza il centrocampo. Mi viene male, mi viene male. Poi là mi diceva un'ottenteccia, ne abbiamo anche noi fuori quattro. Sì, va bene. Quadrado è un ex giocatore, non lo so neanche perché l'avete preso. Quadrado è proprio finito. Ormai era bollito già da noi. Siete andati a prendere un Quadrado a dargli due milioni e mezzo? Difatti ho pensato fra me e me, che cazzo fanno? Quell'altro lì, Arnautovic. Arnautovic. Sarà mica un giocatore? Tanto è vecchio, mi pare che è vecchio. E poi non è che se vi manca Arnautovic, oddio, accade il mondo, no? Oddio, due punti forti che vi mancano in difesa sono quel Pavard, ma avete Darmian, Darmian per sostituirlo, e poi quel bastone, lì non so come farete. Avete un paio di giocatori fuori, però noi ce li abbiamo centrocampo. Centrocampo per me è il fulcro dove si gioca la partita. È lì che voi avete i giocatori più forti, l'Inter, è i giocatori più forti, perché voglia o non voglia, Barella, Mkhitaryan e Cialanoglu sono forti, sono forti. Poi hanno i sostituti, lì hanno due pezzi per sostituirli, e loro ce n'hanno, e loro a centrocampo ne hanno in abbondanza. Invece noi no, invece noi no. Io spero che Allegri cambi un po' il sistema, perché giocare col 3-5-2 adesso non è possibile. Devi imbottire, devi fare in maniera di adattare qualche giocatore, sacrificare qualche giocatore a tornare indietro, tornare indietro. Perché se giochi solo con Rabbio, Imiretti e centrocampo, due davanti devono tornare. Ovviamente Vlaovic lì farà da boa, solito, e poi Chiesa e Ken dovranno tornare indietro. Penso che giocherà con il 3-4-3, con due punte che tornano sugli esterni. Non c'è altra soluzione, ragazzi, perché i giocatori sono quelli. A meno che il fenomeno lì in panchina non faccia entrare Yildiz e Eilin Junior adattarlo a interno sinistro e spostare il Rabbio sulla destra. Non lo so, non lo so, vedremo. Comunque la vedo dura, la vedo dura. Troppe essenze, ragazzi, troppe essenze. Comunque ancora complimenti alle W-Man. 5 pipette, 5 pipette. E bravo Djokovic, Djokovic, sei il migliore, sei il migliore, sei il migliore. Ci sentiamo domani con un altro video, vediamo se vengono fuori notizie. Domani parleremo della storia degli inglesi lì a Everton e quelle altre due che sono indagate. Roba pesante in Inghilterra. Beh, ma è anche giusto, è anche giusto che anche loro gli facciano il culo. Non è che lì possono fare quel cazzo che vogliono, no? Parleremo domani di questo. Iscrizione al canale, like, campanellina, un bacione a tutti i belli e brutti. Mi raccomando il pollicione, ragazzi. Il pollicione. Non vi chiedo altro. Il pollicione. Ok? Ciao, raga.